Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come fare l'overclock nel Samsung Galaxy Next Per fare questo overclock c'è bisogno di aver installato il sistema operativo di ChanogenMod Android 4.2.2 Jelly Bean Poi farò un altro video come installarlo Allora dovete andare su, intanto sul menu Postazioni Allora dovete andare, siccome all'inizio quando lo installerete non spunteranno queste due cose Dovete andare su info del telefono e cliccare due volte su numero build Vabbè, già le abilitate Allora dovremmo andare su prestazioni Voi sapete che il Samsung Galaxy Next ha 600 MHz di CPU E questo overclock consiste nell'aumentare questa CPU Allora dovete andare sul processore Frequenza massima della CPU Noi da 600 MHz la possiamo portare a 806 MHz Come Samsung Galaxy Next Turbo Va bene, grazie a tutti e al prossimo video